Sono fatto un contest per fare il giudice a Isfattor. Beh, se tu hai fatto solo un provino. Beh, un provino cos'è? Perché è diverso dal contest. Ma sì, eravate lì in tre o quattro. No, eravamo in dodici, ma che cazzo dici? Ho capito, eravate lì in dodici, hai tirato tre cazzi, due madonna e ti hanno preso. Questo è vero, questo è vero. Applaudo perché è vero. No, è andata così. E' entrata una ragazza e dice, adesso io canterò un pezzo di una cantante americana formidabile che voi naturalmente conoscerete poco, ma che è stata una grande stanza. Cazzo dico, io ho detto, orca, chissà cosa. Canto e canto un pezzo di Janice Joplin. Non aspettavo altro che finisse. Finisce e dico, senti testa di cazzo. Sì, perché come ti permetti di dire che noi siamo... E lì Mongori disse, l'amara. Vedi, anch'io ho fatto...